Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile, oggi su delega della direzione distettuale antimafia della Procura di Palermo, hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare messa dal GIP del locale tribunale a carico dei fratelli Giuseppe Nunzio Serio, entrambi i detenuti, e Filippo Raneri. Gli indagati rispondono al vario titolo di trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale, aggravati dall'avere agito con metodo mafioso e dall'avere favorito l'associazione mafiosa. La misura giunge a corollario di un'attività di indagine condotta sulla famiglia di Tommaso Natale, dalla quale era scaturito, nello scorso mese di gennaio, un provvedimento di ferme messo dai magistrati e la Procura di Palermo a carico di diversi personaggi, tra cui lo stesso Giuseppe Serio, accusati di associazione mafiosa ed estorsione. Quelle indagini avevano infatti dimostrato come fratelli Serio elementi di vertice del sodalizio mafioso operante nella zona di Tommaso Natale, nonché fedelissimi dello piccolo, avessero imposto ai ristoratori delle borgate marinare palermitane di Mondella e Sferracavallo la fornitura dei frutti di mare distribuiti dall'esercizio Frutti di Mare Cardillo, fittiziamente intestato ad una cugina ma di fatto nella loro disponibilità. Nella maggior parte dei casi per ottenere le commesse era sufficiente che Serio, forti del loro riconosciuto blasone mafioso, si presentassero ai gestori dei locali di ristorazione. Non sono mancati tuttavia casi in cui gli esercenti sono stati pesantemente minacciati. Analogo atteggiamento intimidatorio era riservato ad eventuali fornitori concorrenti che avessero osato proporre i loro prodotti ai ristoratori della zona. Inoltre è stata sottoposta a sequestro preventivo un'agenzia di scommesse nella formale titolarità di Filippo Raneri, destinatario della misura dell'obbligo di dimora ma riconducibile a Giuseppe Serio.